E' nullo per carenza di motivazione il diniego di concessione della cittadinanza italiana. L'articolo 8 come primo della legge 91-92 impone all'amministrazione l'obbligo di motivazione, che sebbene non possa configurarsi nei termini di cui l'articolo 3 della legge 241 del 90, non essendo sempre possibile rendere note per ragioni di sicurezza le risultanze dell'istruttoria, ha come contenuto minimo la chiara indicazione, pur in termini ridotti all'essenziale, della ragione ostativa all'accoglimento della domanda, ossia dei fatti o sospetti determinanti il diniego, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato appare del tutto sfornito di motivazione, in quanto quella riportata nel testo deve ritenersi meramente di stile, in quanto non ancorata a concreti elementi fattuali tali da suffragare le affermazioni contenute nel decreto relative all'inaffidabilità del ricorrente sotto il profilo dell'ordine pubblico e della convivenza civile, in merito alla lunghissima durata del suo soggiorno in Italia. Grazie a tutti.